Pace e bene. In queste settimane di coronavirus va di moda il motto e hashtag andrà tutto bene. È una frase di incoraggiamento con la quale vogliamo alimentare la speranza. Ma per quanto sia bella sappiamo che in fondo non è vera. Umanamente parlando per tante persone non sta andando bene. In molti infatti stanno soffrendo e morendo. Ma la Pasqua ci dice che possiamo attingere a una speranza vera, a quella del Signore risorto. La morte e risurrezione di Gesù non ci dice che andrà tutto bene, ma che tutto concorre al bene se sappiamo viverlo affidandoci a Dio. Dio infatti sa volgere tutto al bene. Solo Lui sa trarre vita dalla morte, salvezza dalla croce, bene dal male. Dunque non fermiamoci ad un superficiale andrà tutto bene. Ma apriamoci ad un più profondo e vero tutto concorre al bene. Sì, nelle mani di Dio tutto concorre ad un bene più grande. Pregare per credere.